bene ragazzi calano le tenebre alba un alba un po nella quale la juventus deve riflettere ma ma ormai del bicchiere mezzo vuoto ne ha parlato tutti ieri parliamo del bicchiere mezzo pieno immaginate voi la juve che le vince tutte poi arrivare al finale immaginate voi praticamente devi far cambiare il canale per vedere la tv o qualche duro perché avresti tutti e avrebbero le mani sui mi compreso perché perché questo perché è chiaro che se nessuno l'ha mai fatto lì c'è la ceppia specie dalle tutte ci sarà un motivo e se proprio dovevi perdere una partita lo so ancora con murigno e poi apriamo la parentesi murigno ha ragione ci ha sofferto ci ha sofferto quando ha fatto quei insomma il segno il segno di non sento più l'hanno mandato a fanculo per 90 minuti giustamente se se vendicato se vendicato è inutile dimostra affatto che bisogna stare con i piedi per terra sugli spalti sì se usciva guardando tutti così non solo guardando faceva più bella figura così è fatto un po quello che farebbe un tifoso non è tanto il gesto è che adesso ogni volta che entrare in uno stadio tutti lo pilleranno a fanculo mandano a fanculo perché se uno ci soffre lo vai a pungere se uno ignora poi sono i due gol quelli che l'hanno messo nel culo a tutti i tifosi bastava quello quello di fare così secondo me si è messo lui nell'ottica di dire sì ci ho patito che ecco questa è la cosa psicologica di murigno però giusto così anche il gesto perché ci mancherebbe altro dopo una partita del genere mi chiederebbe il mezzo pieno appunto dicevo che è impossibile vincere tutte se doveva perdere una partita vabbè si riesce anche arrivare primi nel girone bisogna adesso a questo punto iniziare a fare goleade prendere anche un gol 5 a 3 va bene va bene anche 5 a 3 subire qualche gol se possibile non subirli perché avete visto che non avevano subito un gol poi ne prendi due in finale immaginate che era la finale questa sarebbe se sarei stato l'unico che parlava al deserto perché erano tutti si sarebbero cacciati tutti dalla finestra quindi avrei fatto un video che lo vedevano solo gli anti juventini a proposito gli anti juventini giustamente festeggiate pure perché ma attenzione attenzione il triplete può arrivare lo stesso anche dopo una partita del genere se vi ricordate milan che vinceva in europa ne prendeva anche dalla perdeva anche dall'eventus ci sta anche che voi interisti o voi milanisti potete potete anche vincere la partita contro di noi più vedo più l'inter in grado di fare uno scherzetto la juve perché la vedo più più completa come squadra del milan e comunque sia la juventus mi ha fatto un'ottima impressione a livello mentale anche se gli ultimi minuti no ma per buona parte della partita vero anche che complice un manchester messo male in campo perché murino ahimè ha vinto la partita solo perché la juve si è mangiata i gol non è dipeso da lui è dipeso dalla juventus quindi non si può dire grande murino perché se la juventus ne fa cinque eravamo qua a dire poteva farne otto abbiamo avuto cinque pali nitide due pali e tre cose che le segnava mia nonna in cariola quindi bisogna mettersi nell'ottica soprattutto un giocatore come quadrado che fa gol impossibili mettiti nella testa perché se no bernardeschi ti fa fuori bernardeschi ti fa fuori svegliati 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 e di bala ha fatto una grossa partita quindi ci sta di bala che ha sbagliato anche se l'ultimo tiro d'esterno stoppa quella palla e giocala cosa tiri quella mozzarella bisogna stoppare la palla lì entrare dentro hanno fatto questi con un tiro e due gol pazzesco non ho mai visto però il calcio è bello per questo alle volte abbiamo vinto delle partite mi ricordo l'italia con l'olanda vi ricordate i rigori che abbiamo vinto e beh è successo la stessa cosa la stessa cosa se non ce lo vedete già fare così ci saluto ragazzi alla prossima alle volte uno schiaffo soprattutto il champions visto che abbiamo presi tanti è meglio prenderlo prima ciao